Nagatomo, ancora Nagatomo, prova a scendere al piccolo trotto, al piccolissimo trotto sulla sinistra, prova ad accentrarsi, ancora Nagatomo, chiama dall'altra parte davanti Jonathan, adesso il Milan è tutto racchiuso, palla adesso per Morizia. Dai! Goal! 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 Palazio! 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 Palazio, un gol meraviglioso, un uomo distrutto, un uomo distrutto, Ruiu, Londra, Londra Moretti, Londra! Attenti, attenti, è finita, è finita, l'Inter vince in tempi, e Rolga, in mira, puristamente. Muria! Sei come quei ragazzini un po' stronzetti che fanno la spia alla maestra, che fanno la spia alla maestra. Ma non è finita, c'è anche un'altra parte. Ma non è finita, ma non è finita, c'è anche un uomo distrutto, povero Thomas, dietro le telecamere. No, dai, arriva la pera, arriva la pera, no, dai, prendi la pera, Ruiu, devi prendere la pera, è Natale. Eccola qui, la pera di Ruiu, va bene, facciamolo, guardate cosa fa. Ecco, perfetto, perfetto, questo è il gol di Palazio, straordinariamente fatto da Gianluca Rossi. La classifica, ve la diciamo tra un istante, speriamo che qualcuno porti dei sali per Ruiu, che non riesce a riaversi. Che cosa c'è Rossi? Tre biglietti per il Natale a meno 12, il nuovo film che è uscito. Sono maggio, buon Natale, buon Natale, il Milan, Zappata, Palloselli, Gagliani, non ha spazzucchiato Gagliani. E devo dire che Cristiano, scusate, Marcello Chirico, un genio, trova il Cristiano Ruiu alle spalle, potete inquadrare. La mummia si è trasformata in mummia in cui è un Ruiu veramente ridotto una schifezza. Due minuti nella regia e vediamo le prime reazioni di protagonisti di questa partita. Arriviamo subito, grazie da poco.